Musica Buongiorno, benvenute e benvenuti a Mattino 6, il nostro quotidiano appuntamento con la rassegna stampa. Martedì 5 novembre, oggi sui quotidiani nazionali torneremo a parlare dell'annosa questione dell'ILVA, mentre il ministro dell'agricoltura, Bellanova, è venuto in visita in Abruzzo. Ma allora andiamo subito a scoprire cosa è successo in Abruzzo e nel mondo dalle prime pagine dei quotidiani, a partire da quelli locali, in particolare il centro. Fallimento OMA, lira dei lavoratori, a Pescara i dipendenti in piazza, abbiamo mutui e bollette da pagare. Nella fotonotizia, malattie del cuore, la prevenzione si fa nella band di Luca Carboni, l'iniziativa di solidarietà, mentre nel taglio alto, lo abbiamo detto, Bellanova in Abruzzo, agricoltura innovativa per attirare i giovani. Il traffico in tilt, lunghe code e caos sulla 14, Noemi scortata con le sirene, Noemi è la bambina da cui è nata anche una onlus per i ragazzi disabili. Porti di Pescara e Ortona, stanziati i fondi e questo è il piano della regione, intanto addio Scordella e il decano degli armatori. A Francavilla scopre il ladro in palestra e lo fa arrestare. Giovane pestato, branco alle strette. A Pescara lo studente picchiato racconta, mi hanno messo i piedi sulla testa. Ed eccoci sulla prima pagina di Chieti, Lanciano e Vasto, rifiuti ora allarme anche sul colle, a Chieti protestano i residenti, nessuno raccoglie l'immondizia nei condomini. A Ortona, lavori nei porti, 45 milioni messi in bilancio, a Lanciano la Lega in casa e la Violenta va a processo. Vasto, ecco le barriere sulla via verde contro le auto. Nella fotonotizia il traffico di cuccioli su internet sotto inchiesta da un'intera famiglia per la compravendita illegale degli animali. Scopre il ladro e lo fa arrestare. A Francavilla è il titolare di una palestra, rincorre il bandito fino all'arrivo dei carabinieri. La prima pagina di Teramo, sisma, ecco le richieste dei sindaci. Teramo e gli altri centri del cratere portano a Roma gli emendamenti. E intanto la cronaca, Silvi, coltello in mano, in due rapinano l'area di servizio. E a Mosciano raffica di ricorsi al TAR contro il biodigestore. E a Martinsicuro sul tronto torna la pesca con le bilance. E ancora la cronaca sulle strade. Schianto, ubriaco, l'altro guidatore. Un uomo indagato per omicidio stradale dopo la morte dell'anziana di Montorio. La fotonotizia, un corteo di trattori per regalare fieno all'azienda dopo l'incendio. La solidarietà dei colleghi all'agricoltura. Agricoltura che quest'estate è stata molto danneggiata dal maltempo. Che però sopravvive grazie anche a questi gesti di solidarietà. Eccoci sulla prima pagina dell'Aquila di Avezzano e di Sulmona. Nuova stazione, lavori per 2 milioni. L'Aquila, intesa tra comune e rete ferroviaria. Previsti più parcheggi. E sempre nel capoluogo. Banche, più mutui familiari per la casa. E a Castel di Sangro stupro nel parco. L'animatore nega tutto. Avezzano, ultimi platani abbattuti senza proteste in piazza Mercato. Gratuito patrocinio, 37 indagati ed Avezzano accusati di falsi autocertificazioni per avere la difesa legale a spese dello Stato. E intanto a Castel di Sangro è ricercato un 61enne scomparso a Isernia. Nella fotonotizia, tanti gli abruzzesi. È la tradizionale maratona di New York. Li vediamo qui, oltreoceano, nel celebre evento sportivo. Quindi anche tanti abruzzesi. Il messaggero, la prima pagina abruzzese. Schiaffo d'acciaio. Governo nel panico. Anzi no, Conte offre all'azienda un decreto e rispunta alla vecchia cordata. Accuse 5 Stelle PD, cancellato l'emendamento con le tutele. I sindacati, bomba sociale. La città, il quotidiano della provincia di Teramo. Presa la banda dello spaccio d'eroina. Rifornivano i giovani tra Marche e Abruzzo. In manette anche una coppia di Martinsicuro. Nel taglio alto, 60 aziende al career day dell'Università di Teramo. Governance Ruzzo, il comune, ha perso la prima battaglia. Nella fotonotizia, l'abbiamo detto, l'agricoltura solidale. I colleghi donano parte del loro fieno all'azienda distrutta dal fuoco. Intanto la politica, altre polemiche sul destino di Prati di Tivo. A Giulianova il sindaco rilancia la partecipazione civica tramite i comitati di quartiere. Ancora a Roseto un'impresa di Foggia realizzerà i lavori nella via della Movida. Teramo offende il conducente controllore dell'autobus. Giovane Bullo è stato denunciato. Ma ora andiamo a scoprire invece cosa è successo fuori dai nostri confini sui quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera. Il caso Ilva scuote il governo. Arcelor Mittal si ritira. A rischio 10.700 posti. Il Colle preme per una soluzione. Conte, non consentiremo la chiusura dell'Ilva. Renzi e Di Maio riferisca in aula ai sindacati. Bomba sociale. Intanto il punto di vista di Salvini. Ruini mi ha commosso e vorrei parlare con Liliana Segre. Dopo le polemiche per l'astenzione della Lega e non solo dalla votazione sulla commissione Segre. Intanto nella fotonotizia gli esteri arriva il re Caos a Barcellona. Bruciate in piazza le sue foto. Filippo e la famiglia in Catalogna per il premio intestato alla figlia. Ma continuano le proteste degli indipendentisti catalani. Sulla Repubblica che titola sulla pelle dell'Ilva colpo al cuore del Sud. Arcelor Mittal annuncia l'addio. Senza lo scudo penale non si può risanare Taranto. Arrischia ora 15.000 posti. Il Governo solo un alibi per tagliare 5.000 operai. Attacchi tardivi del PD alla linea dura imposta dal Movimento 5 Stelle. Renzi lavora una cordata con Gindal e CDP che rilevi la fabbrica. Intanto il passaparola dei calciatori, i cori razzisti ci fermeremo dopo l'ultimo caso accaduto a Verona che ha coinvolto Balotelli, i cori razzisti che hanno fatto infuriare il calciatore. Nella fotonotizia la giornalista scomparsa Nadia Toffa. E' il suo ultimo anno in un libro che quindi uscirà ora postumo, i pensieri di Nadia. Noi senza paura. Il fatto quotidiano. Preso infiltrato della mafia in Parlamento. L'ex portaborse della neorenziana. Il radicale Nicosia insultava Falcone Borsellino. Chiamava Premier Messina Denaro, trattava omicidi, portava Pizzini in carcere con l'ex Leu Occhio Nero. Un sintomo appunto dei rapporti tra lo Stato e le organizzazioni malavitose. Il gastolo vero sono i mafiosi che negano i diritti umani, i politici sono contro l'odio e si insultino un po' meno in TV. E intanto la storia dei garantisti all'italiana, la lobby radicale dei referendum anti-magistrati e legali mafiosi. E Piero Grasso, l'ex PM e il leader di Leu. I politici controllino i portaborse. In carcere non portino nessuno. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa su Il Giornale. Fanno fallire l'Italia. Ancora la dura accusa al governo. L'Ilva chiude per colpa di 5 Stelle e PD. Senza scudo penale, Arcelor annuncia l'addio all'acciaieria. Si rischiano 10.000 disoccupati e 24 miliardi di buco. Disastro firmato di Maio Conte. Imprese in rivolta, sciopero fiscale contro la Plastic Tax. Intanto ieri era la festa delle Forze Armate. A questa celebrazione dedicata alla fotonotizia del giornale, c'è chi odia le Forze Armate pure nel giorno della loro festa. Un prete nega la preghiera agli alpini. Una polemica piuttosto sterile. Intanto l'intervista a Matteo Renzi. Nel PD combattono me. Invece di bloccare le tasse. Continua quindi la lotta interna alla maggioranza. Il caso Cona Dosciani. I licenziamenti non indignano, se a deciderli, la Copp Rossa. Andiamo avanti su Il Mattino. Il quotidiano di Napoli. Mittal lascia l'Ilva. Colpa dello stop. Allo scudo penale. E dei PM. A questo è dedicato la fotonotizia, con un esplicativo fuga dall'Italia. Il governo nel panico convoca l'azienda e studia un decreto. I sindacati una bomba sociale. La grande paura di Taranto. E intanto senza acciaio, destinati al collasso industriale. Il commento sul mattino. Intanto il reddito effetto zero sul lavoro. Donne al sud bonus assunzioni. Il rapporto Svimez e le mosse del Ministero. E mobi a rischio serve un piano di salvataggio. L'IT banche onorato. Andiamo avanti sul manifesto. Calcio, razzismo all'ultimo stadio. Verona, insulti a Barotelli. Alta tensione tra tifoserie, società e politica. Salvini salta nel fuoco. Infatti il leader leghista ha criticato la reazione di Mario Barotelli. Intanto la fotonodizia è dedicata all'ilva di Taranto. Terra bruciata. Mittal lascia l'Italia. Fa tremare i 20.000 dipendenti della exilva. Annuncio dell'azienda franco-indiana. Dopo il no del governo. Allo scudo penale sulle tutele ambientali. I sindacati per Taranto una bomba sociale. E dal rapporto Svimez il dramma del sud. Due milioni in fuga per mancanza di lavoro. La metà giovani, giovani incastrati, appunto, lo possiamo dire in questo ricatto. Da un lato la questione economica e dei posti di lavoro. Dall'altro quella della salute e dell'inquinamento. Nel taglio basso la legge di bilancio. Scontro su plastica. Ci saranno delle modifiche. Mafia, arrestato Nicosia e radicale amico del boss. Manovra, De Cristofaro, la scuola lasciata a secco. Catalogna, Filippe VI, ospite sgradito. Via il Borbone. In Brasile, Marielle Franco, Riecco, Bolsonaro. E continua la guerra in Siria. Erdogan, vi rimando, i foreign fighters. Mentre comunque continuano a essere sterminati, possiamo dirlo. I curdi, movimenti dal Libano al Cile. Ribellarsi è giusto, ma non basta. Un periodo di grandi contestazioni e ribellioni in moltissimi paesi del mondo. E Trump è al capolineo, ma non si vota domani. L'analisi sulla politica statunitense, secondo il manifesto. Ed eccoci sul messaggero. L'abbiamo letto prima il titolo principale. Intanto effetto siderurgia. 3 miliardi di PIL e 50 mila posti di lavoro. Grillini, Democratici, CGL e Toghe. Somma zero di quattro populismi. Andiamo avanti sulla verità di Maurizio Belpietro. La renziana col portaborse e mafioso. L'assistente della deputata Pina Occhionero faceva uscire i messaggi dei boss dal carcere dove accompagnava l'onorevole durante le ispezioni. Lei, non indagata, lo scarica. Però solo 15 giorni fa erano insieme alla Leopolda e ci sono intercettazioni imbarazzanti. Capolavoro giallorosso, Arcelor Mittar, molla all'Ilva. 15 mila lavoratori a terra. Il governo ha negato la tutela legale. Ha fornito agli acquirenti l'alibi per ritirarsi. Nella fotonotizia vediamo il cardinale Ruini che ha messo il re a nudo. Crisi isterica nella chiesa. L'incontro in hotel che inchioda Conte. Oggi Giuseppi riferirà alla Camera sulla consulenza a Fiver. Lui dice che quando la firmò non poteva immaginare di diventare premier. Ma la sera prima era con Salvini e Di Maio. Contro il pensiero unico. Ancora la questione sollevata dalla verità, la tenerezza e l'orgoglio. La lezione della fallaci alle femministe. Questa contrapposizione tra la scrittrice scompasta e le attiviste antisessiste. L'ideologo del gender, famia cultva, mi sono inventato tutto. Il calcio, imiti tennis e pallavolo. Arbitri in confusione. Ci vuole il VAR a chiamata. Andiamo avanti su Libero, il Vangelo e comunista. Il titolo provocatorio in pieno stile feltri. Il vescovo di Mazzara del Vallo. Il monsignore spiega che con Salvini è difficile dialogare e che i leghisti non sono cattolici. Poi dice che il Papa non fa politica, semmai sono i compagni ad aver copiato la parola di Gesù. Nella foto qui vediamo il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Gli indiani se ne vanno. L'ILVA è stata assassinata dalla scempiaggine del Movimento 5 Stelle. Intanto la fallaci racconta le prostitute. Il libro delle interviste di Oriana alle donne. Intanto la questione di Conte anche su Libero. Ecco la prova che incastra l'Avvocato Conte. La bugia sulla consulenza. Intanto contraddizioni sinistre. Questa festa che continua a far discutere. Il 25 aprile è bello. Il 4 novembre no. Perché il 4 novembre nasce appunto come celebrazione della Grande Guerra. Della Prima Guerra Mondiale. E' stato duramente contestato soprattutto negli anni 70. Il sole 24 ore. Il quotidiano economico finanziario di Confindustria. Che apre appunto sulla questione economica. Exilva. Arcelor Mittal restituisce le chiavi. Le cause. Annullamento dello scudo penale. Il rischio chiusura dell'Alto Forno 2. Il governo non ci sono i presupposti per il recesso. Conte convoca ora l'azienda. Gradualità, esclusioni e premi. Così cambia la tassa sulla plastica. Manovra 2020. Piano dell'Emilia Romagna. Nella legge di bilancio. Più tasse per 5 miliardi e mezzo. La fotonotizia concorrenza Rousse de Bisou. Scusate la pronuncia in questo francese improvvisato. Contessa Vestager. L'Unione Europea non deve aiutare i campioni industriali. Nutriti e coccolati da fondi pubblici. Creare campioni europei. Un modo per assicurarsi un'effettiva sovranità industriale. Le due opinioni a confronto. Intanto nel taglio basso. 12 milioni e mezzo. Petrolio, Saudi, Aramco. Parte l'ipo dei ministeri. Dubbi sul prezzo di collocamento. I mercati trimestrali. Dazi, Fed e BCE. Borse europee ai massimi dal 2015. In salute la borsa di Milano. Dall'inizio dell'anno a ieri. L'indice Fizemib ha guadagnato oltre il 27%. E la finanza investa nell'economia reale. Tarantelli, finanziere e banchiere. L'obiettivo è favorire l'occupazione. Con i tassi a zero la finanza ha un senso. E può dare rendimenti interessanti se si concentra sull'economia reale. E dopo l'appello alle manovre economiche passiamo sulla stampa che anch'essa titola ovviamente sull'Ilva. Mittal addio all'Ilva e apre la crisi dell'acciaio. Conte cercano scuse. L'azienda contesta la caduta dello scudo penale. I giudici pugliesi. Il premier convoca le parti a Roma. E Renzi riesuma la vecchia cordata. Ma Taranto riflette i mali del sud. Dall'Iraq a Libano la rivolta degli alleati spaventa Teheran. Un gruppo di manifestanti assalta il consolato iraniano a Karba, la città sud di Baghdad. In Iraq lo vediamo in questa fotonotizia. Intanto gli ultra del Verona. Razzisti. Appena lo vediamo qui. E folklore. Il capo rilancia. Balo non è italiano. Come se la questione fosse se il calciatore avesse o meno la cittadinanza e fosse o meno italiano. E Salvini no ai fenomeni. Questo è il commento del leader leghista. Ma passiamo a un altro sport. Berrettini sono un esempio per chi vuole sognare in grande. Questa l'intervista sul tennis. Eccoci sul tempo. La fotonotizia dedicata a Manuel Bortuzzo. Il ragazzo che fu colpito fuori a una discoteca. Gli spararono. E da allora rimase sulla sedia a rotelle. La speranza di Manuel Bortuzzo. La lesione al midollo non è completa. Forse può succedere il miracolo. La fotonotizia esemplare. Io camminerò. Mazzata su pil e occupazione. Pacco d'acciaio. PD e 5 Stelle fanno scappare l'ILVA. L'azienda annuncia la cessione. Decisivo il no del governo allo scudo penale. Intanto sorprese in arrivo per i proprietari di casa. E zitti zitti aumentano pure l'IMU. E la fotonotizia, la vignetta di Oscio. Quest'oggi è dedicata appunto alla vicenda Balotelli. L'Italia perde la testa per due fischi a Balotelli. Lascia stanno. Fatto così pure con Giulietta e Romeo. L'ironia di Oscio. Intanto andiamo sul secolo di Francesco Storace. A sua insaputa. Deputata di sinistra col portaborse arrestato per mafia. Ovviamente lei poteva non sapere. Il gioco di parole da non poteva sapere. Meloni smonta le bufole con duello con Report. Il programma della Rai. Caos all'ex Ilva di Taranto. Mittal vuole andarsene. Belanova contro il PD. E il penultimatum di Zinga. Eccoci sul secolo XIX. Arcelor Mittal abbandona l'Ilva. Governo in affanno. Non può farlo. Parazzo Chigi. Sono solo scuse. E convoca l'azienda. Per domani Renzi rilancia la vecchia cordata. Fiato sospeso per 20.000 lavoratori dipendenti di Genova. A Roma scelte schizofreniche. I mali del sud. A proposito è la miopia della politica. Nell'editoriale di Stefano Lepri. Nel taglio alto colpo grosso Samp a Ferrara. Caprari al novantunesimo abbatte la Spal. Gol dell'ex giocatore del Pescara. E a proposito di calcio. Il caso Balotelli scuote il calcio. L'ultra di Verona non è italiano. E Salvini valgono di più gli operai. Che vengono messi a confronto con il giocatore di Serie A. L'avvenire. Il quotidiano di ispirazione cattolica. Acciaio spezzato. Arcelor Mittal vuole recedere dal contratto. Senza scudo riprendetevi l'ex silva. Il governo solo un alibi. Non consentiremo la chiusura. Ma è scontro politico. La forte preoccupazione di 10.000 lavoratori di Taranto. I sindacati. Un disastro di incapacità. Intanto la manovra che ora è al Senato. Tasse su plastica e autoaziendali. Correttivi in arrivo. L'energia sostenibile dal fossile alle rinnovabili. Tempi lunghi. E la questione razzismo. Verona non ci sta. Razzisti da scaricare. Anche perché facendo in maniera errata di tutta l'erba un fascio, agli ultra del Verona sono sempre state attribuite determinate posizioni xenofobe. Vi è dato a minimizzare la città. Riflette. Rocca. No all'intesa. La Libia rispetti i diritti. Viaggio nell'ISPRAR che garantivano integrazione e adesso vengono chiusi. Ergastolo ostativo. Non cade laggine contro le mafie. I magistrati criticano la consulta per la sentenza che ha inclinato il regime dell'orgastolo ostativo. Cominciando ad ammettere che anche chi vi sia sottoposto possa usufruire di permessi. E così passiamo allo sport. Eccoci sulla Gazzetta che appunto non può che non titolare sulla questione di Balotelli. Balo italiano vero. La difesa del giornale. Il razzismo negli stati divide il paese. Ma lo ripetiamo ancora una volta. La questione non è se Balotelli fosse o meno italiano. Il capo ultra del Verona non potrà mai essere del tutto italiano. Mario Piccoliesseri, il ministro Spadafora. Il calcio si muova. Salvini, un operaio dell'Ilva. Vale 10 Balotelli. E Mancini pensa se portarlo in nazionale. Voi usereste la parola negro la provocazione nell'editoriale della Gazzetta. Inter abbatti quel muro. Stasera Lukaku prova a sbloccarsi in Europa nell'inferno giallo di Dortmund. Con una vittoria qualificazione più vicina. Conte, non siamo qui per difenderci. Buffera Napoli. De Laurentiis manda tutti in ritiro. Ed è scontro con Ancelotti. Una vittoria col Salisburgo può essere qualificazione. Arbitri. Var. Liamone. Il gioco di parole. FIGCI. L'incontro per chiarire le regole. Intanto nel taglio alto il tennis. Berrettini. Londra. Il mio Oscar. Sinner. Assalto alla Next Gen. I nostri protagonisti negli ultimi grandi appuntamenti. Ranieri. Primo successo. Grosso mondiale per salvare il Brescia. Posticipo di A. Spal Sampdoria. 0 a 1. Grazie a Caprari. Lo abbiamo visto. Corriere dello Sport. Napol Verriera. Stasera col Salisburgo per ipotecare gli ottavi. E la crisi che ha portato a un ritiro poco gradito. Angelotti punge. Contrario alla decisione del club. De Laurentiis difende il provvedimento. Alla squadra manca concentrazione. Bisogna onorare la maglia. Brivido Inter. Conte nella bolgia di Dortmund. No in difesa. No. Attacchiamo. Il razzismo che scuote l'Italia. Balotelli. Polemica senza freni. Mario replica agli ultraveronesi. Siete piccoli esseri ignoranti. Tanti con lui. Ma Salvini lo attacca. Le sanzioni esemplari. Solo sbandierate. Un lungo elenco di insulti. Impuniti. Gravina invoca il pugno duro contro il Verona che fa muro. Il Brescia grosso l'eroe di Germania. Cellino ha scelto l'ex Verona dopo aver esonerato Corini. Ranieri colpo grosso. La Samp vince e spareggia contro la Spal nel finale firmato da Caprani. Mani arbitri già al rapporto. Troppa confusione sulle regole. La FIGC chiami anche i giuristi competenti. Ed eccoci su tutto sporto. La coscienza pulita. Clima elettrico al Filadelfia. Aperto ai tifosi. Mazzarri replica muso duro ai contestatori. Grosso nuovo tecnico del Brescia. Sabato. Rivale del Toro. Nella fotonotizia Juve Haaland di 100 milioni scatta l'asta per il bomber norvegese. Si annuncia una grande sfida fra i bianconeri, il Real e lo United. Anche tonali nella lista di paratici. Intanto il Napoli in ritiro. De Laurenti Sancelotti si alza la tensione. Alle 21 a Dortmund l'Inter d'assalto. Spareggio per gli ottavi. Conte tentazione. Sensi. E la Samp colpo salvezzi. Caprari si lura la Spal. E Montezemolo. Io sto con Ballotelli. Solidarietà anche da parte sua. Furia Ferrari censura Verstappen. Committenti deludenti. E il tennis Berrettini pronto per le finals. Non temo nessuno. E l'abbiamo visto l'ex nuotatore Bortuzzo. Una grande speranza tornare a camminare. E per la prima parte della nostra rassegna stampa è tutto. Adesso le premissioni in meteo. Ma subito dopo la pubblicità andremo a sfogliare pagina per pagina i quotidiani locali. A tra poco. Rieccoci con Mattino 6. Martedì 5 novembre. Prima di proseguire la nostra rassegna stampa. E andare sui quotidiani locali. Ad approfondire la cronaca abruzzese. Una notizia che è appena giunta nella nostra redazione. Perché questa mattina c'è stato un nuovo blitz. Arrancitelli. Sono stati sgomberati cinque appartamenti popolari. presenti il sindaco di Pescara Carlo Masci e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Ed è proprio di quest'ultimo che ora vado a leggervi il commento a proposito dell'operazione di questa mattina al ferro di cavallo. Lo avevamo promesso e lo stiamo facendo. Altri cinque appartamenti popolari liberati e riassegnati escono delinquenti. Entra chi ha diritto. Andate via da soli perché noi continueremo grazie ai fondi stanziati dal presidente Marco Marsilio. Come vedete dalla notizia non si apprende chi erano le persone abusive che sono state sgomberate. Che fine faranno ora? Probabilmente approfondiremo questa notizia nella TG delle 14. Andiamo avanti ora nella nostra rassegna stampa. Andiamo sul centro ad approfondire la cronaca abruzzese. Maxi code in A14. Bloccata anche Noemi, la bimba di Guardia Grele costretta otto ore di viaggio. Il Papa Andrea siamo stati soccorsi e scortati con le sirene. Per i porti di Pescara-Ortona 45 milioni di euro in bilancio. Ecco il piano triennale delle opere pubbliche. Marsilio si tratta di risorse da reperire ma la regione farà tutto quello che le compete per ottenerle. Bellanova. I giovani restino in Abruzzo. L'agricoltura può attrarre ma servono innovazione e ricerca. Non possiamo restituire i fondi europei destinati all'Abruzzo. La burocrazia sblocca lo sviluppo del settore. Italia Viva è la start-up della politica riformista che affronta e risolve i problemi. Perché oltre che il ministro dell'agricoltura Teresa Beranova è anche una dei due presidenti del partito fondato da Matteo Renzi. Fondi per comuni e malati curati fuori. Marco Vecchio della Lega. Aiuti per eliminare le barriere architettoniche. Pettinari dei 5 Stelle sosteniamo chi va in altre regioni. L'ex chirurgo Foschi, ex aspirante candidato di Fratelli d'Italia alla regione, giura fedeltà al partito di Salvini. L'ho fatto in virtù dell'antica amicizia con Casanova, proprietario del Papete. La nuova norma ha un finanziamento di 100.000 euro garantito dalla Presidenza del Consiglio regionale ed è riservata a chi ha affetto da patologie tumorali e ai familiari. E a proposito di questa proposta del Movimento 5 Stelle al sostegno degli affetti da tumore approfondiamo questa notizia nel nostro servizio. Siamo partiti dalla considerazione che purtroppo sempre più frequentemente famiglie con a carico un malato oncologico trapiantato sono costrette a rinunciare alle cure perché non hanno i soldi per percorrere a volte centinaia e centinaia di chilometri. Questa legge vuole prevedere un sostegno economico per tutte quelle famiglie con a carico un malato oncologico trapiantato contribuisce appunto al pagamento delle spese di viaggio, vitto e alloggio nelle strutture autorizzate per il malato oncologico e se debitamente autorizzate dalle alze di provenienze anche per un familiare accompagnatore laddove persistono dei casi di disabilità molto grave. La nostra legge prevede anche che entro 60 giorni dall'approvazione della stessa deve essere la giunta regionale ad emanare un regolamento attuativo per disciplinare le modalità di accesso. Sicuramente abbiamo posto come priorità quella di contribuire e sostenere maggiormente chi ha redditi bassi quindi si partirà il settore politica e sociali, stirerà alla fine una graduatoria per rimborsare le spese sostenute partendo dal reddito più basso fino a concorrenza delle spese, delle somme disponibili. Abbiamo trovato tra l'altro nelle maglie del bilancio del Consiglio regionale a nostro avviso una somma congrua per l'annualità 2019 pari a 100 mila euro e abbiamo previsto nella norma di rifinanziare le annualità successive con appositi stanziamenti di bilancio nella finanziaria che si approva ogni anno. Abbiamo scollegato completamente al settore sanitario per questo è un vero e proprio rimborso sociale ai malati oncologici quindi abbiamo creato questo capitolo all'interno delle politiche sociali e quindi la legge è blindata, non può essere impugnata, è una legge fatta bene una legge che i cittadini abruzzesi aspettavano da tanto, da troppo tempo noi siamo partiti quando abbiamo pensato, ideato questa legge proprio a seguito di centinaia e centinaia di segnalazioni ricevute di cittadini che ci chiamavano col cuore in mano piangendo veramente persone diciamo stiamo rinunciando alle cure, non ci possiamo pagare le cure ecco questa è una legge doverosa. Un tentativo nel 2014 però il 21 maggio 2014 a scadenza di legislatura quindi era stata impugnata proprio perché è approvata in quel semestre diciamo così dove non si poteva legiferare queste norme e la legge è stata anche sostenuta dall'intero ufficio di presidenza e quindi io credo che verrà approvata nel più breve tempo possibile. Abbiamo ascoltato Domenico Pettinari adesso torniamo sul centro emergenza Dighe, la regione approva il piano Campotosto la giunta dice sì alle perizie di stima dei beni da vendere, scienze motorie via libera alla convenzione da 250 mila euro. Grandinata all'Udc in campo con Marsilio, per l'Abruzzo serve lo stato di emergenza lo ricordiamo il governo nazionale ha decretato che non può essere assegnato all'Abruzzo lo stato di emergenza quindi non arriverà nessun tipo di risarcimento per la grandinata di luglio scorso sono stati persi in questo modo 222 milioni. Ora è ufficiale, fracassi al vertice di Confindustria Abruzzo piccoli comuni colletti il governo stanzi a 7 milioni per le opere pubbliche è quella sfida degli abruzzesi di corsa tra i grattacieli un evento straordinario, pattuglia di 31 podisti 55 mila partecipanti all'evento 2 milioni di spettatori l'avvocato Aquilano Dionisio ha accompagnato la delegazione e ho fatto il tifo per gli abruzzesi a New York ed eccoci a Pescara la cronaca, pestato con i piedi sulla testa il ragazzo svela i nomi del branco parla il 17enne aggredito sabato notte in via Piave ma hanno picchiato per uno sguardo di troppo la rabbia della madre pronta a sporgere denuncia nessuno è intervenuto per salvare mio figlio lo studente del Volta e atleta del Pescara Basket subirà dal primario a Scani un intervento di ricostruzione dell'orbita De Nicola condannato per il crack in 10 finiscono sotto processo 3 anni e 8 mesi è l'imprenditore ritenuto responsabile del fallimento di una serie di società stessa patteggia 18 mesi ma viene assolto dalla più grave accusa di associazione per delinquere e intanto la cronaca giudiziaria morta nel tunnel flash mob stamane comincerà oggi il processo per lo stupro di Anna Carlini la donna trovata senza vita il 30 agosto 2017 nel tunnel della stazione morto a 83 anni l'armatore Benito Scordella a marineria in lutto andiamo avanti Università Alcofa sì del comune al confronto con le associazioni la giunta Masci punta un protocollo d'intesa dopo aver sentito anche gli ordini professionali nuovo consiglio lunedì prossimo resta aperto anche il nodo del trasferimento della MIBE nello SPAZ il centro di aggregazione giovanile per il liceo musicale occorrono 28 aule la soluzione della scuola di Villa Fabio soddisfa a metà le esigenze le malattie del cuore si fa prevenzione anche suonando con Carboni lo abbiamo letto in prima pagina l'iniziativa di solidarietà e intanto Montesilvano assessori in ritardo i negozianti se ne vanno nulla di fatto all'incontro di Confesergenti per definire le iniziative per le feste gli amministratori si scusano i commercianti siamo stanchi di aspettare all'oggiater il sindaco stila la lista delle emergenze incontro con il neo-presidente ed ecco la festa di cui parlavamo prima Montesilvano in maxi tricolore a terra e spiaggia tra mille studenti nella giornata dell'unità nazionale delle forze armate la bandiera da 250 metri è atterrata con i paracadutisti noi eravamo lì a Montesilvano per le celebrazioni di questo 4 novembre allora vediamo il resoconto e come nasce anche questa celebrazione nel nostro servizio 4 novembre festa dell'unità nazionale delle forze armate le divise sono state celebrate a Teramo e Montesilvano alla presenza anche di molte scolaresche affinché siano inculcati nei giovanissimi il patriottismo il dogma della legalità e il rispetto per le forze dell'ordine è una festa fatta di momenti da dedicare soprattutto alle generazioni future ai ragazzi per spiegare loro quanto importante sia l'unità nazionale e quanto importante sia l'operato delle forze armate delle forze dell'ordine e tutti coloro che operano nel mondo del volontariato istituzioni civili e militari sia a Teramo che a Montesilvano qui il momento clou della manifestazione ha visto dei paracadutisti scendere dal cielo con un enorme drappo tricolore discesa non senza difficoltà a causa del forte vento quella di oggi è la centesima celebrazione della festa che fu istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale tant'è che durante il ventennio fu ribattezzata anniversario della vittoria ma qual è la reale eredità della grande guerra che tanto celebriamo oggi? ecco qualche numero 700.000 morti italiani un milione di feriti di cui circa la metà invalidi permanenti il nostro paese utilizzò circa il 70% della spesa pubblica per finanziare un esercito composto per la maggior parte da contadini 400.000 furono i soldati processati per insubordinazione e autolesionismo e 100.000 i processi per resistenza alla leva durante il comando del generale Cadorna morivano 11.000 persone al giorno mentre carabinieri e polizia reprimevano chi scendeva in piazza contro la guerra per questi e altri motivi le celebrazioni del 4 novembre sono sempre state duramente contestate specialmente negli anni 70 ciò nonostante questa è l'unica festa nazionale antecedente al fascismo ad essere celebrata ancora oggi e ora la cronaca andiamo a Francavilla sorprende il ladro nella palestra lo mette in fuga e lo fa arrestare un 34enne di Vacri domenica mattina ha forzato la porta della body fit lungo la nazionale ma nel locale ha trovato il titolare che lo ha inseguito in strada fino all'intervento dei carabinieri e sempre a Francavilla la rete del gas arriva anche nelle contrade Cetti e Coderuto Oma la rabbia degli operai in piazza fateci lavorare sindacati ricevuti dal prefetto che scrive al tribunale al Mise e alla regione dipendenti dell'azienda di Castiglione abbiamo bollette e mutui da pagare la Oma è stata ufficialmente dichiarata fallita dal tribunale 330 i dipendenti che ora hanno il posto di lavoro a rischio per questo motivo sono scesi in piazza vediamo il resoconto nel nostro servizio situazione della Oma critica difficile oggi c'è questa manifestazione qui nei pressi della prefettura di Pescara e cosa chiedete e a chi vi rivolgete noi ci rivolgiamo soprattutto al giudice delegato che praticamente ci ha decretato la fine della Oma ha voluto che il fallimento dell'azienda al posto dell'esercizio provvisorio che era praticamente quello che tutti i lavoratori e le istituzioni e anche i sindacati si aspettavano perché con l'esercizio provvisorio potevamo praticamente tutelare sia il lavoro sia i lavoratori e soprattutto gli stipendi perché a noi è una situazione purtroppo è una avvertenza anomala perché noi venivamo pagati regolarmente in questi mesi quindi questa sentenza che ha fatto il giudice è stato un fulminaccio sereno perché noi abbiamo praticamente ancora tante commesse da riconsegnare perché abbiamo i lavori nuovi da fare a bussi dentro il cantiere di società chimica a bussi abbiamo la manutenzione che purtroppo non si può fermare perché lì c'è un problema anche di sicurezza abbiamo il lavoro con la committente più importante che è il Nuovo Pignone dove abbiamo parecchi lavori ancora da riconsegnare e la cosa che ci ha stupito è che il giudice non ha tenuto presente queste situazioni perché quindi noi capiamo il discorso analitico sì siamo di fronte a un fallimento questo ormai è chiaro però il discorso sociale credo che non si è tenuto in considerazione questo passaggio vogliamo ricordare quanti sono i lavoratori interessati da questa vertenza sì i lavoratori interessati sono 341 dislocati in tre cantieri più importanti che sono che praticamente stanno in Toscana come ho detto prima con il Nuovo Pignone poi ci sono una cinquantina di persone al cantiere di bussi e il restante nelle officine a Castiglione e a Tocco questa mattina tra l'altro ci sono qui anche i rappresentanti dei comuni dei territori che ospitano queste aziende sì infatti ci fa piacere ringraziamo che anche i sindaci della zona hanno voluto manifestare insieme a noi questo disagio e per questo tutti i lavoratori insieme ringraziamo le istituzioni che in questo momento ci stanno vicine abbiamo visto pure c'era il consigliere Blasioli c'era il consigliere regionale Testa quindi sicuramente a noi fa piacere che le istituzioni in questo momento di figile sono vicino a noi per cercare di risolvere questa avvertenza e la cronaca ci porta a Lanciano legata e violentata Guzzino a processo trentenne romena costretta a vivere in Italia segregata per un mese in un appartamento a 10 chilometri da Lanciano intanto andiamo a Teramo servono d'Alberto per tutto il cratere servono 600 tecnici in più queste le parole del sindaco di Teramo che chiede una norma per dare priorità agli interventi di edilizia residenziale pubblica tra gli emendamenti preparati c'è anche quello sulle agevolazioni fiscali per le attività economiche decreto sisma oggi audizione alla Camera dei primi cittadini e di Farabollini andiamo rapidamente a leggere anche le principali notizie sul centro Porti Marsilio chiede a Roma 45 milioni per pescare Ortona programma triennale approvato dall'autorità dell'Aimar che fondi necessari per le opere del capoluogo e per sistemare le scogliere nell'altro scalo e ancora da Facebook tutti i nomi nel branco a proposito della questione della rissa avvenuta che ha ferito appunto un ragazzo che dovrà essere ora operato all'occhio e per il crack De Nicola testa patteggia un anno e mezzo ma il GUP lo assolve dall'accusa di associazione a delinquere due anni a Di Prinzio altri dieci a giudizio un proscioglimento lo vediamo nella fotonotizia all'ex presidente della provincia di Pescara e intanto il crack Oma corsa per salvare 341 posti lo abbiamo appena visto nel servizio gli operai chiedono l'esercizio provvisorio all'Aquila arriverà la gru e spariscono i posti per le auto in piazza del teatro intanto l'Aquila Pescara a treni veloci in tre anni l'amministratore delegato di Rete Ferrovie italiane Gentile conferma l'obiettivo in due passaggi realizzazione della bretella di Pratola ed elettrificazione e rapidamente andiamo anche sulla città il quotidiano della provincia di Teramo code e disagi per i viadotti sequestrati anche in Abruzzo cresce il fronte della protesta per le carreggiate ridotte lungo l'autostrada adriatica la cronaca canile lager 61 animali tenuti al buio tra i loro escrementi intanto la politica serve lo stato d'emergenza sulla grandinata record il segretario Udc di Giuseppe Antonio si unisce ad azione promossa da Marco Marsilio sarà difficile recuperare questi risarcimento in arrivo però 7 milioni e mezzo per le manutenzioni potranno essere usati per strade abbattimento alle barriere architettoniche illuminazione e strutture comunali questo per appunto i piccoli comuni intanto ok il piano d'emergenza per Campo Tosso via libera dalla giunta regionale su proposta del governatore Marsilio rapidamente prima di terminare la nostra rassegna stampa andiamo anche a scoprire qualche titolo sportivo i principali titoli secondo il centro andiamo sulla Pescara 4 esami per decollare arriva il momento più duro della stagione alle porte Empoli Cremonese Perugia e Frosinone in 39 giorni le big del torneo intanto torna Melegoni Campagnaro a parte primo giorno del centrocampista rientrato a Pescara dopo l'infortunio al ginocchio e la serie C il Teramo spicca il volo Iachini possiamo migliorare ancora il diavolo cala il poker di vittoria il patron a piedi per terra le partite con le big diranno che campionato potremmo fare un Teramo quindi che dopo lo zoppicante inizio di stagione adesso pare dimostrare tutte le sue qualità volley riparte la rappresentativa under 15 giovedì ad altino il primo allenamento del femminile in vista del trofeo delle regioni in Veneto il notaresco è da sballo meglio c'è solo il Palermo nove vittorie di fila per il rosso blu dall'afino ai dilettanti solo i siciliani sono davanti alla squadra di Vagnoni Chieti domenica col fiugi a città Sant'Angelo e l'eccellenza a corsa a quattro per la vetta Castelluovo Capistrello e Torrese lanciano la sfida al blasonato lanciano leggiamo anche il campionato di promozione l'assetto societario l'Aquila il nuovo presidente sarà uno tra Marrelli e Stinziani rapidamente andiamo anche sul messaggero a leggere le notizie sportive eccoci con il Pescara con la serie B il Pescara Empoli sfida il suo passato Zauri è stato giocatore nel Delfino targato Bucchi nel 2013 ora alla guida dei Toscani in attacco c'è il grande ex Mancuso il bomber che è stato poi ceduto alla Juve grosso sulla panchina del Brescia di Balotelli un pescarese in serie A il campione del mondo di Berlino 2006 ora quindi allenerà il Brescia di Balotelli il settebello può ripartire dalle Naia di a proposito di pallannuoto confermatissimo il coach Malara l'obiettivo resta la salvezza sconti per i vecchi abbonati quindi il centro sportivo le Naie di Pescara che dopo la chiusura e le polemiche torna appunto un punto importante per lo sport abruzzese e non solo la serie C Tedino ora si gode la riscossa Teramo il diavolo a suon di vittoria è entrato nella zona nobile della classifica come meritava a Rigoni ci voleva equilibrio anche nei momenti più duri domani test di coppa a Viterbo e la serie D Pineto tre partite per capire il futuro della stagione la vastese più sicura Amelia è soddisfatto dopo il pareggio a Pineto molte luci e pochissime ombre ancora la serie D il Chieti Vagabondo gioca a Città Sant'Angelo e sempre nella serie D al volano per rabbia le crostate tutti senza cena notaresco record capolista in fuga in serie D solo la pro sesto il Palermo hanno fatto meglio dei Teramani e della Re Canatese appaiata la salvezza è già stata conquistata Roseto serve un leader per la squadra in sette giorni dai playoff alla zona play out parliamo ovviamente di palla canestro e ora anche la notizia del volley i sieco i tifosi preparano la trasferta verso la Puglia e leggiamo anche allora le notizie sportive sulla città il quotidiano della provincia di Teramo che ci aspettiamo appunto approfondisca sulla serie C adesso provate a fermare il diavolo 12 punti nelle ultime quattro giornate una rimonta prepotente tra due settimane iniziano gli scontri con le big del campionato di serie C e la serie D invece il Pineto impatta 1 a 1 nel derby contro la Vastese vantaggio aragonese con Dos Santos pareggio di Ciarcelluti nel finale arriva il rosso a Shiba e ancora il basket Roseto tutto troppo brutto per essere vero scarto di 20 punti contro Mantua ma in generale una giornata da dimenticare molto in fretta a proposito di basket l'Adriatica Press si arrende a Senigallia ora due match in casa dopo la trasferta Marchigiana e con questa notizia sportiva ecco la palacanestro concludiamo la rassegna stampa di questo martedì 5 novembre io vi ringrazio per essere stati con noi e vi rinnovo l'appuntamento con l'informazione della TG6 alle ore 14 grazie e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti